Sapete come si chiama questo quadro e chi lo ha dipinto? Il quadro si chiama Garofano, Giglio, Giglio, Rosa, ed è un dipinto di John Singer Sargent, realizzato tra il 1885 e il 1886 e conservato nella Tate Pin di Londra. L'opera raffigura due bambine abbigliate con vesti candide e virginali, dalla bellezza pura e delicata, colte mentre accendono delle lanterne cinesi in un'atmosfera vibrante di luce ambigua. Sospesa fra quella evanescente e naturale del tramonto e quella calda e artificiale dei fuochi delle lampade. La scena prende luogo nella rigogliosa natura che circonda le due figure, distribuendo generosamente i fiori menzionati nel titolo, i Garofani, velati da un giallo tenue e delicato, ma anche le rose colori incarnato e i lilla bianchi, con tutta probabilità appartenenti alla specie Lilium auratum.